All'assemblea del PD Renzi interviene sulle unioni civili e apre la strada a un accordo con i centristi e a un emendamento sul governo sul quale porre la fiducia. Ora è a rischio la stepchild adoption. Contrari sia la minoranza DEM che il Movimento 5 Stelle di Maio sfida il Premier. Siamo pronti a votare il disegno di legge Cirinna così com'è. Sarà presentato dal ministro Padoan il piano del governo italiano per riformare l'Europa. Sette i punti chiavi tra i quali Unione bancaria, bonde europei per le infrastrutture, ministro del tesoro unico. Intanto in Gran Bretagna il sindaco di Londra Boris Johnson critica il Premier Cameron e si schiera per l'uscita del paese dall'Unione europea. Una serie di attacchi kamikaze rivendicata dall'Isis causa decine di morti a Homs e Damasco in Siria. Nel mirino dei terroristi i luoghi di culto sciiti. Intanto il segretario di Stato americano Kerry annuncia abbiamo raggiunto con Mosca un accordo per il cessate, il fuoco in Siria. La Roma batte 5 a 0 il Palermo e questa è la quinta vittoria consecutiva per i giallorossi di Spalletti. Allo stadio c'è Francesco Totti dopo l'esclusione e le polemiche con il tecnico. Ma intanto oggi il capitano della Roma tornerà ad allenarsi. La Fiorentina vince a Bergamo con l'Atalanta ed è terza stasera Napoli-Milan. Le 7.30, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del Tg La 7. Allora Renzi spariglia sulle unioni civili e ipotizza un accordo di maggioranza per far andare avanti la legge. In accordo con i centristi è disposto anche a mettere la fiducia. Alfano apre a questa ipotesi che però vorrebbe dire la caduta dell'elemento più divisivo della proposta Cirinna, la stepchild adoption. Matteo Renzi dà la palla ai senatori del PD, indica l'alternativa secca sulle unioni civili. O si mette la fiducia sul disegno di legge, cosa che implica un accordo di maggioranza con i centristi di area popolare che chiedono lo stralcio della stepchild adoption, l'adozione dei figli del partner dello stesso sesso, o si continua a cercare l'asse con i 5 stelle. Toccherà gli eletti del PD a Palazzo Madama martedì riunirsi e decidere, spiega il Premier all'Assemblea nazionale del PD a Roma. Ma Renzi bolla come i inaffidabili pentastellati, hanno fatto dietro front per fare male al partito democratico, dice, e cita i peanuts, hanno la sindrome di Lusi che portava via il pallone a Charlie Brown all'ultimo istante, prima che lo potesse calciare. Il Premier manda anche un messaggio ai due estremi del PD, ai cattodemme alla sinistra. A chi minaccia o così o me ne vado, dico quattro lettere, ciao. Replica Gianni Cuperlo, ciao almeno è meno brusco di addio. La minoranza del PD insorge contro l'ipotesi della fiducia e della cancellazione dal disegno di legge Cirinà della stepchild adoption. Sono contrario, è un'arma impropria, dice Roberto Speranza, e contro il ricorso alla fiducia si schierano anche le opposizioni, da Sella, Forza Italia alla Lega. I 5 stelle provano a rilanciare. Sulle unioni noi ci siamo al 100%, il PD vuole votare il disegno di legge, chiede Luigi Di Maio. Risponde Ettore Rosato. Un giorno dicono sì, l'altro no. Allora potevano votare il canguro, dice riferendosi all'emendamento firmato dal larenziano Andrea Marcucci, che avrebbe consentito di tagliare gran parte delle oltre 5.000 proposte di modifica, in gran parte targate Lega, e di accelerare il litter della legge, ma che i 5 stelle non sono stati risposti a sostenere. In Gran Bretagna per il Premier Cameron c'è un nuovo problema, si chiama Boris Johnson, il sindaco di Londra, anche lui conservatore, che si è schierato per l'uscita del Regno Unito dall'Europa, contro le posizioni del Premier. Si chiama Boris Johnson, il primo ostacolo di David Cameron, sul cammino verso il referendum del 23 giugno. Il sindaco di Londra, l'uomo politico forse più carismatico al momento nel Regno Unito, lo dice apertamente, quella che farà nelle prossime settimane sarà una battaglia per far uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Dunque Johnson ha aspettato appena 24 ore dalla riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri a Downing Street e poi senza indugi ha impugnato la bandiera della Brexit. C'è il pericolo reale di perdita di controllo democratico, ha spiegato parlando con i giornalisti che lo assediavano davanti alla sua abitazione londinese. C'è troppo attivismo giudiziario, troppe leggi che arrivano da Bruxelles e determinano un'eccessiva influenza delle istituzioni europee sulla sovranità britannica. Per questo ha spiegato dobbiamo scendere dal treno europeo. Nei giorni scorsi che avevano preceduto la riunione del Consiglio di Bruxelles, Johnson aveva espresso le sue perplessità sui negoziati insistendo sulla necessità di ottenere più garanzia a tutela della sovranità nazionale e dei poteri parlamentari di Westminster ma aveva spiegato di volere attendere la conclusione del negoziato. Cameron, che appena sabato scorso era rientrato da Bruxelles con in tasca la rinegoziazione dei quattro punti, deve trovare al più presto in modo di disinnescare la bomba Johnson, un ordigno che potrebbe avere effetti devastanti anche sul suo futuro politico. Il Premier deve anche arginare una fronda interna che sta di ora in ora indebolendo il suo governo. Almeno dieci ministri si sarebbero già dichiarati favorevoli ad una uscita dall'Europa. Mentre il commissario europeo per gli affari economici, Pierre Moscovici, ha già fatto sapere che Bruxelles non ha un piano B in cantiere se il Regno Unito sceglierà di lasciare l'Unione Europea. E a proposito d'Europa, l'Italia sta per presentare le sue proposte per la riforma dell'Unione. Quasi un miliardo e 200 milioni di euro, oltre il 60% in più nell'ultimo anno. Dopo periodi di cali, torna a crescere la spesa pubblica per consulenze esterne, fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, che conta nel complesso 3 milioni e 200 mila dipendenti, anche se si registra un netto aumento del numero, più 47,9% di coloro che hanno ricevuto compenso per prestazioni passate. A rivelarlo è il rapporto del Ministero della Pubblica Amministrazione, che ha reso pubblici tutti i dati sugli esborsi extra per incarichi conferiti da vari centri di spesa. Regioni, soprattutto, in testa alla graduatoria col 113% in più, e poi ministeri, università, presidenza del Consiglio dei Ministri, agenzie fiscali. Il rapporto ministeriale arriva nel bel mezzo delle manovre pro e contro Brexit e alla vigilia della presentazione da parte del Ministro Padoan del documento contenente una serie di punti che l'Italia intende presentare a Bruxelles. Un documento che continuerà verosimilmente a girare intorno alla parola flessibilità e al nodo del fiscal compact, sul quale lo stesso Renzi ha ribadito ieri la sua opposizione. Tra aumento della spesa pubblica, così in netto contrasto con ogni proposito di revisione della spesa, la famosa spending review, e la volontà di allentare la rigida gabbia di regole imposte dai trattati e dagli accordi. E' questa la complicata partita in corso con Bruxelles che più volte e a più riprese insieme alle regole ha chiesto anche al governo un'attenzione particolare proprio per la spesa pubblica. Una partita italiana che entra nel vivo proprio in contemporanea con le polemiche e i timori su un'eventuale uscita del Regno Unito e di cui si sono già avuti segni nei botte e risposta negli ultimi giorni tra il Presidente del Consiglio e l'ex Premier Monti che oggi, in un'intervista sul Libero, parla di un'Europa messa in crisi dai sistemi politici nazionali da leader interessati più a imporre la loro narrativa che a comprendere davvero la realtà per trasformarla. Tutti i temi che probabilmente Matteo Renzi affronterà oggi nella conferenza stampa alla sede della stampa estera a Roma per ricordare i due anni di governo. C'è un'ultimora che arriva dal confine fra Afghanistan e Pakistan. Un drone americano ha colpito con un missile e avrebbe ucciso tre sospetti terroristi. mentre in Siria è l'Isis che rivendica le autobombe contro i luoghi di culto sciita che ieri hanno provocato qualcosa come 180 morti. Una scia di attentati con l'Isis in difficoltà sotto il profilo militare che torna a colpire i civili siriani con i vecchi metodi kamikaze e autobombe in diverse località della Siria. Del tutto provvisorio il numero dei morti più di 140 e dei feriti quasi 180. La prima città colpita è Oms una delle più martoriate da anni di guerra con due violentissime esplosioni che devastano il quartiere sciita di Al-Zahara nelle mani di Bashar Assad. La seconda azione è ancora più ampia e coordinata una serie di attentati fanno strage nel sud di Damasco anche in questo caso viene scelta un'area sciita roccaforte del regime. Una piccola speranza arriva però dalla Giordania dalla quale il segretario di stato Kerry annuncia che Stati Uniti e Russia hanno trovato un accordo di principio sui parametri per l'entrata in vigore del cessato del fuoco necessario a portare aiuti vitali agli oltre 100.000 profughi in fuga da Aleppo bombardata dal regime chiusi in una terra di nessuno al confine con la Turchia non è la prima volta che Kerry e Lavrov negoziano una tregua senza però riuscire a farla entrare in vigore visto il numero e gli obiettivi contrastanti che hanno le molte forze che combattono sul terreno sulle quali neanche Stati Uniti e russi hanno il pieno controllo e ora la storia di Meriem una diciannovenne cittadina italiana di Padova ma di origini marocchine che in estate aveva raggiunto l'Isis per combattere a fianco del califato e che ora vorrebbe abbandonare i miliziani e rientrare in Italia non sarà facile voglio tornare a casa vi prego aiutatemi la voce è quella di Meriem Reili non hanno dubbi i carabinieri del Rosca e l'hanno intercettata un mese fa mentre parla al telefono con una parente la diciannovenne padovana di origini marocchina è partita da Arzer Grande alla volta dello Stato Islamico in Siria il 14 luglio scorso è controllata dai militari insieme all'antiterrorismo che in questi mesi non hanno mai smesso di tracciarla e adesso cercano a distanza di trovare il modo di proteggerla da possibili ritorsioni chi decide di abbandonare le fila si sa paga con la vita il padre di Meriem in questi mesi ha più volte lanciato appelli disperati alla ragazza mettendosi a disposizione dei militari per le ricerche Meriem all'improvviso lascia tutto famiglia amici scuola dopo la fuga su internet pubblica diversi contenuti inneggianti allo Stato Islamico usa il nome di sorella Rim non si sa ancora quali mansioni ha svolto in questi sette mesi o se abbia imbracciato il Kalashnikov quello che è certo è che i nostri 007 dell'antiterrorismo attraverso lo scambio di informazioni coi servizi turchi sono riusciti a intercettarla e restare sulle sue tracce e così monitorando costantemente i suoi contatti italiani quelli del Ross sono riusciti a rintracciare il suo pentimento al telefono non ce la faccio più voglio tornare secondo l'intelligenza sarebbero 93 i foreign fighters italiani partiti dal nostro paese per andare a combattere tra le fila dell'Isis mentre si attendono i risultati dell'autopsia e quelli dell'esame del computer che è stato recuperato dalla famiglia tutte le novità le ultime novità sulla morte di Giulio Reggeni continuare a parlare di Giulio Reggeni mantenere alta l'attenzione per arrivare alla verità sull'assassinio del ricercatore e tutto ciò che conta in questo momento per i genitori di Giulio che lanciano un appello ai nostri investigatori impegnati al Cairo tornate in Italia solo quando sarà fatta a completa chiarezza dice la famiglia del ricercatore noi contiamo sull'impegno delle istituzioni che ci hanno assicurato che la storia di Giulio non cadrà nell'oblio non vogliamo omissioni né tentennamenti parole forti che raggiungono gli investigatori italiani mentre operano tra grandi difficoltà appesi alle iniziative della procura e della polizia di Giza che fanno melina gli inquirenti egiziani non vogliono coinvolgere nelle indagini poliziotti e carabinieri tenuti lontani dai risultati degli accertamenti fatti al Cairo dai tabulati telefonici alle immagini girate dalle telecamere di sorveglianza a breve si conosceranno invece i risultati dell'autopsia fatta a Roma mentre occorre qualche giorno in più per analizzare i contenuti del computer di Giulio portato in Italia dai genitori trovato pieno zeppo di documenti sul caso Regeni si misurano i rapporti tra i due paesi da un lato il premier Renzi fa pressione sottolinea il rapporto forte con l'Egitto e dice proprio perché siamo amici pretendiamo la verità vogliamo i responsabili da Sharm el Sheikh il primo ministro egiziano scerife Ismail replica che gli investigatori comunicheranno i risultati delle indagini appena ultimeranno il loro lavoro l'omicidio di Regeni è un atto criminale ma il ministro non crede che i rapporti con l'Italia verranno compromessi da quello che cataloga come un incidente i governanti cattolici compiano un gesto esemplare durante quest'anno non eseguano condanne a morte questo è l'appello che è arrivato ieri da Papa Francesco che chiede un gesto concreto nell'anno del giubileo della misericordia per pergoglie un segno di speranza che nell'opinione pubblica si sia sviluppata una diffusa contrarietà alla pena di morte anche solo come strumento di legittima difesa sociale il giubileo ha detto il Papa è un'occasione propizia per promuovere nel mondo il rispetto della vita e della dignità di ogni persona andiamo negli Stati Uniti è il ritiro in punta di piedi di Jeb Bush l'elemento più importante dell'ultima tappa delle primarie che hanno visto ancora una volta vincere Trump fra i repubblicani e la Clinton risalire fra i democratici il trionfo di Donald Trump è la resurrezione di Hillary Clinton i media mondiali riassumono così l'esito del terzo match delle primarie di sabato negli Stati Uniti dopo essersi aggiudicato la maggioranza dei delegati in South Carolina il repubblicano Donald Trump promette di erigere un muro al confine con il Messico contro l'immigrazione clandestina muro che ha generato un diverbio a distanza con Papa Francesco ma il tycoon tira dritto non sente ragioni e promette che a pagare quel muro saranno le autorità messicane esaltato dalla vittoria contro i rivali Marco Rubio e Ted Cruz rispettivamente secondo e terzo oltre che dall'uscita di scena di Jeb Bush Trump va giù duro anche contro la Cina nulla di personale ma sono gli autori della più grande truffa nei nostri confronti complice la nostra classe dirigente riporteremo a casa i posti di lavoro che gli abbiamo regalato già completamente calato nel ruolo di comandante in capo il re del mattone fa il piano di consensi e si assicura la maggioranza dei 50 delegati in palio per la convention di luglio a Cleveland tre democratici conquistato il Nevada distanziando il rivale Bernie Sanders Hillary Clinton guarda con ottimismo alle prossime tappe il 27 febbraio in South Carolina e il super martedì del primo marzo quando si voterà in 15 stati per aggiudicarsi un quarto dei delegati dietro il successo delle ex first lady oltre agli immancabili voti dei giovani di molti latinoamericani e degli indipendenti soprattutto quelli delle donne 6 su 10 hanno votato per lei stasera Napoli Milan conclude la giornata di campionato che ha vissuto uno dei momenti principali ieri sera con la vittoria 5 a 0 della Roma sul Palermo una Roma dove Totti non c'era e parleremo fra un po' delle polemiche vediamo intanto le partite il caso Totti non distrae la Roma dalla tribuna il capitano assiste al 5 a 0 dei giallorossi sul Palermo che vale il quarto posto a più due sull'Inter la rete di Keita e le doppiette di Geco e Salah capace di segnare anche dalla linea di fondo rovinano il ritorno di Iachini alla guida dei siciliani consegnando a Spalletti la quinta vittoria consecutiva la corsa Champions è più aperta che mai il successo dell'Olimpico riporta la Roma a meno due dalla Fiorentina che difende la sua terza posizione con il 3 a 2 di Bergamo imbrigliata per più di un'ora dall'Atalanta la squadra di Paolo Sosa cambia volto con gli innesti di Borca Valero e Kalinic i nerazzurri si svegliano tardi e la loro classifica dopo 11 turni senza mai conquistare i tre punti inizia a farsi preoccupante torna invece a vincere il Sassuolo i neroverdi superano per 3 a 2 l'Empoli che sembra aver perso lo smalto del girone di andata boccata d'ossigeno anche per il Genoa il 2 a 1 di Marassi mette nei guai l'udinese qui non basta il gol iniziale di Adnan il primo di un giocatore iracheno in Serie A il rigore fallito da Di Natale allo scadere certifica la crisi dei friulani e fa traballare la panchina di Colantuono in coda si procede a piccoli passi a una settimana dallo scontro diretto il Frosinone fallisce l'aggancio alla Sampdoria e alla zona salvezza ma lo 0 a 0 del Matusa non soddisfa neppure la Lazio stesso risultato per il Carpi che strappa il pareggio in casa di un Torino tradito dall'errore di Maxi Lopez dal dischetto delusione tra i tifosi Granata e nel mirino finisce soprattutto il tecnico Ventura la 26esima giornata si chiuderà stasera con il posticipo Napoli-Milan l'imbattuto fortino di fuori grotta è pronto a spingere gli uomini di Sarri al controsorpasso sulla Juventus in vetta alla classifica ma Mialovic non si fa spaventare al San Paolo senza paura la promessa del tecnico rossonero fin qui il calcio giocato ma il fatto del giorno e della settimana sportiva è sicuramente il caso Totti dopo la fragorosa lite con spalletti e l'esclusione del capitano giallorosso dai convocati per la gara di ieri sera ieri sera proprio Totti ha avuto un gesto distensivo è andato allo stadio poi è andato negli spogliatoi e ha goduto della vittoria della sua squadra il caso Totti esploso in tutto il suo fragore pesa molto più della cinquina rifilata ieri sera al Palermo la presenza in tribuna del capitano è apparsa come il tentativo di voler ricomporre una vicenda grave quanto triste con Luciano Spalletti che raccoglie i cocci di una sfida senza vincitori né vinti ma con la chiarezza che da sempre lo contraddistina par di missili l'ha tirato insomma a lui è come calcio alla falla gli parte vestita in aria che è di manforte per me è tutto finito io non voglio mica io non sono venuto a rompere i coglioni a nessuno la società si è dimostrata ancora una volta incapace di gestire vicende che la riguardano e secondo cui sei anni di contratto da dirigente fatti a Totti dalla precedente gestione Sensi sono l'elemento cardine per porre fine alla querelle auspicio generale con la tifoseria schieratasi in blocco dalla sua parte Francesco Totti riprenderà da oggi gli allenamenti cercando di meritarsi quel rispetto invocato nell'intervista che ha dato in là questa pericolosa spirale dalla quale lo stesso Spalletti spera di uscire al più presto non senza ribadire ruoli e doveri vuoi continuare a giocare continua a giocare se continua a giocare però sappi che non ti regalo niente se fai il calciatore a me va bene però io fu l'allenatore allora adesso le previsioni del tempo con Paolo sotto corona subito dopo c'è Omnibus gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Elisa Calessi di Libero Marco Damilano che è il vice direttore dell'Espresso Maurizio Molinari il direttore della stampa poi c'è Massimiliano Panarari un politologo l'economista Nicola Rossi e Gianfranco Pasquino professore all'Università di Bologna alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale noi ci vediamo domani alle 6 e mezzo con Omnibus News grazie e arrivederci